Carissime amiche e carissimi amici della Tribù Rossonera, bentornati a questo e bentornate a un nuovo appuntamento di approfondimento. Approfondimento su ciò che purtroppo e ahimè sta uscendo fuori da queste indagini che riguardano le curve di Milano, in particolar modo quella dell'Inter sicuramente molto ma molto più penalizzata. Dunque, innanzitutto ringrazio ovviamente tutti gli iscritti al canale, tutti coloro che subito mettono un bel pollice all'insù e tutti coloro che poi condividono questo genere di contenuti nei propri social, quindi Instagram, Telegram, Whatsapp, Facebook e bla 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 bla, OX. Il nostro caro direttore di Calcio e Finanza, Luciano Mondellini, ha ovviamente, e come no e come sempre, scritto un editoriale davvero molto interessante da analizzare, che ha intitolato Chi ha sbagliato paghi, ma lo Stato non può lasciare sole le società. E allora andiamo a analizzarlo insieme. L'inchiesta della procura di Milano, più attinente l'Inter che non il Milan, bisogna sottolinearle queste cose, perlomeno da quanto è emerso fino adesso, poi vediamo. Ha scoperchiato un vaso di Pandora maleodorante sugli intensi e nocivi rapporti con le due curve di San Siro, che appunto intrattenevano rapporti molto stretti con la malavità organizzata. Al momento le due società si sono dette partelese, questo è stato sottolineato anche dalle autorità, e come spiega ovviamente il PM Marcello Viola, cosa vuoi che ti dica Marcello Viola, amico di Marotta? Mettendo nello stesso sacco due situazioni diverse. Le società sono da considerarsi soggetti danneggiati dalle condotte criminali dai soggetti sottoposti a indagini. E visto che nessuno è colpevole, sino a prova contraria, e sino al terzo grado di giudizio, è bene doveroso lasciare che l'indagine si concluda. Per questa ragione che io vi ho detto, attenzioni cari youtuberini, attenzioni cari giornalisti, fate molta attenzione a tirar fuori anche i nomi di certi personaggi. Ma non è una questione di omertà, è una questione semplicemente che essendo una situazione talmente delicata, se tu ti poi dopo esce fuori che certi personaggi non risultano, diciamo, colpevoli per determinate situazioni, poi diventa difficile, altro che solo la scorta per il buon PM Santoro o per la signora Ombra. Poi dovete stare molto attenti anche voi giornalisti, perché loro sanno dove siete e vi vengono a cercare. Quindi, occhio! Quindi, come sempre, bisogna avere prudenza nel dare certe informazioni. Se dunque poi qualcuno sarà giudicato colpevole, che questo sia una persona fisica o una società, ovviamente è giusto che paghi di fronte alla giustizia ordinaria da un lato o sportiva dall'altro. In questa sede, però, come dice il buon Mondellini, bisogna portare avanti un altro tipo di analisi e che riguarda, entrando nello specifico, il tema delle infiltrazioni malavitose nelle curve, che non è un problema che riguarda solo il Milan o l'Inter. Addirittura, dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per esempio, non ha mancato di evidenziare, come ancora oggi, viva sotto scorta e riceva minacce telefoniche addirittura 7-8 volte al giorno, oltre a subire cortei minacce contro la sua persona e volantini che hanno come effigie la sua tomba. Questo essenzialmente per non aver voluto concedere agli ultras bianco celesti privilegi sulla merce da vendere allo stadio, pur abbonamenti e biglietti gratis, o ancora delle trasferte pagate dalla Lazio. Problemi analoghi li ha avuti De Laurentiis, ma io ve lo sto dicendo da giorni, quindi vi ho detto, se poi questa inchiesta comincia ad allargarsi, va a pizzicare tutte le curve, ragazzi. In questo quadro, appunto, anche il presidente del Napoli con gli ultraspartenopei e altri presidenti d'Italia. In questo quadro dice appunto Mondellini, non edificante, l'episodio probabilmente più significativo appare però il processo nato dall'inchiesta cosiddetta Alto Piemonte, quando la procura di Torino, all'interno di un'indagine sulle attività di una cellula andranghetista nella zona settentrionale del Piemonte, scoprì che diversi gruppi andranghetisti si erano inseriti nel contesto del tifo organizzato della Juventus nella Curva Sud, cercando di instaurare rapporti con i dirigenti e altre figure della società con l'obiettivo di ottenere biglietti da rivendere a un prezzo maggiorato e di sviluppare la base per ulteriori attività illegali, il cui processo ordinario è terminato con ben dieci condanne confermate dalla Cassazione, tra cui quella di Rocco Dominello, all'epoca uno dei leader di una della sezione dei drughi, storico gruppo di tifosi bianconeri. A livello penale la Juve non era stata coinvolta così come nessuno dei suoi dirigenti, tuttavia il processo sportivo iniziò con la chiamata processo da parte dell'allora procuratore federale Giuseppe Pecoraro di Andre Agnelli, al tempo presidente del club bianconero, dei dirigenti nominati nelle carte dell'inchiesta e della Juventus stessa per responsabilità diretta oggettiva. Le richieste della procura federale furono inizialmente pesantissime, 30 mesi di inibizione per Agnelli, quella più clamorosa, ma poi vennero ridotte in maniera sostanziosa in primo grado e dopo l'appello Agnelli pagò con tre mesi di stop e una multa di 100.000 euro, la società invece con una multa da 600.000 euro e una giornata di curva chiusa per la squadra, nessuna penalizzazione praticamente, nulla di ricadute sul piano sportivo. Alla vicenda legata all'inchiesta Alto Piemonte seguì quella poi denominata Last Banner, nata da una denuncia alla Digos da parte del club bianconero per le pressioni esercitate dalla curva nei confronti della società durante la stagione 2018-19, un'indagine che ha portato alla condanna di ben cinque esponenti della tifoseria organizzata proprio della Juventus. E poi apre un altro capitolo dicendo «Lo Stato è la lotta alla criminalità tra gli ultras». Allora, quest'altro è un altro passaggio secondo me molto interessante da analizzare. Il punto dice un altro. La Juve probabilmente, almeno in Italia, è il club con una struttura aziendale tra le più solide. È la proprietà più longeva nel mondo del calcio internazionale, è controllata da una tra le dinastie, tra le più conosciute nell'intero panorama industriale mondiale, gli Agnelli. Eppure, nemmeno con questa forza alle spalle, che dovrebbe consentire appunto un'impermeabilità di fronte al malaffare, il club non è riuscito a non esserne vittima, perché i processi hanno dimostrato che la Juventus era solo vittima di quello che succedeva, di infiltrazioni malavitose nei suoi meccanismi aziendali. E non solo, ma non va nemmeno scordato che ai tempi il presidente era Andrea Agnelli, ovvero un membro importante della dinastia proprietaria, e in trasparenza uno dei suoi azionisti principali, visto che il figlio di Umberto insieme alla sorella Anna è il secondo socio, dopo che i fratelli Elkan della Giovanni Agnelli BV, che a sua volta controlla Exor e che a catena è il maggior socio della Juve, insomma sulla graticola e nel mirino dei malviventi, non c'era un manager esterno che per dirla in una maniera brutale, al limite si poteva sacrificare, ma un membro stesso e l'importante della dinastia proprietaria. Ma anche questo non è stato sufficiente per evitare che il cancro del malaffare si potesse inocularsi, anche proprio nella società. Dunque, ora, ovviamente non bisogna far sconti con nessuno, e se le inchieste di Milano evidenzieranno che qualcuno ha sbagliato, siano appunto società, persone, chi che sia, giusto che si paghi tanto a livello ordinario che a livello proprio sportivo. Nello stesso tempo, però, non si può sottacere che se nemmeno la dinastia, appunto più potente e radicata in Italia, ha potuto evitare proprio queste infiltrazioni di tipo malavitoso, cioè immaginatevi anche altre che in questo momento, tra l'altro, sono in mano a dei fondi. Per non parlare poi dei tesserati, il cui unico obiettivo lavorativo dovrebbe essere quello di svolgere bene il proprio mestiere, e non quello di preoccuparsi appunto di trovarsi di fronte persone non certo buone e brave quando tornano a casa loro, dalla loro famiglia. Dunque è evidente che le società non possono lasciare, lo Stato non può lasciare sole queste società in questa battaglia e tanto per quanto riguarda degli strumenti innovativi che di polizia giudiziaria bisogna uscire da questo tipo di circolo vizioso che da decenni purtroppo attanaglia lo sport che noi italiani più amiamo, che è appunto il calcio. Le operazioni servono ma anche per quanto meritorie non risolvono il problema perché la gestione economica proprio delle curve da stadio è così proficua che è messo in prigione il vertice di una determinata tifoseria, poi se ne va a creare un altro clan e il ciclo continua. Quindi proprio durante l'inchiesta della Juventus, per esempio, è emerso come la gestione dei biglietti possa essere un tesoro impareggiabile per chi la vuole gestire. Si ponga il caso di un tagliando, per esempio, di una semifinale di Champions quando acquistato al prezzo, diciamo, di 80 euro viene rivenduto a 10 volte tanto, almeno a 800 euro o 1000 o di più considerando la domanda che praticamente arriva da ogni parte del mondo. Praticamente si parla di un rendimento del 1150%, che è introvabile non solo nei mercati finanziari ma addirittura nel mercato nero. Per di più, con una certezza che non si farà fatica a trovare un compratore davanti a uno stadio di 40.000 posti come il Juventus Stadium, si ritrova sicuramente uno che 1000 euro dice che cazzo me ne frega, io Juve, Real Madrid, non si trova 1000 euro, io 1000 euro li pago. Capito? Quindi immaginate, no? Poi ci sono le infiltrazioni, che è un altro tipo di problema che ci sono all'interno proprio anche all'interno, in ottica proprio anche delle società, no? Dobbiamo stare molto attenti. L'Inghilterra, per esempio, a fine anni Ottanta ha posto fine con la Thatcher al teppismo negli stadi che era devastante fino agli anni Settanta per concludersi in quello scempio dell'Aisel dove morirono almeno 39 persone. Quindi il fenonimo degli Hooligans nel Regno Unito è stato vinto ma spostato al di fuori del calcio, c'è anche lì che la Premier League è potuta diventare uno dei campionati più importanti e belli del mondo. Gli Stati Uniti, invece, sono uno tra i paesi più violenti al mondo, ma questa violenza non la si trova, per esempio, né nei palazzetti né negli stadi, quindi nei grandi sport nazionali. Gli imprenditori sono liberi di investire senza il pericolo appunto di doversi fare come soci la malavita che c'è anche lì, ricordiamo. Il bello è cattivo tempo, lo troviamo da ogni parte. In questo quadro ovviamente è bene che le istituzioni si muovono in maniera ancora più continua per proteggere un settore industriale che vale oltre 11 miliardi di euro di prodotto interno lordo, che dà lavoro a circa 130 mila persone nel nostro paese che paga imposte per oltre un miliardo di euro alle casse della nazione. Non direi solo questo, da mangiare anche a tutti noi youtuber, a tutti coloro che si muovono nel mondo del calcio, a coloro che vendono magliette, baracchini, che hanno piuttosto dei negozi, ma anche di cibo, coloro che sono fuori dagli stadi con le loro bancarelle. Cioè voi non immaginate il calcio a livello proporzionale probabilmente è una delle economie che porta più soldi nel mondo e in Italia non ne parliamo proprio. Noi che viviamo di pane e calcio. E quindi ovviamente sì che ci vuole il pugno di ferro in queste situazioni per portare il tutto a uno sport dove uno la domenica può andare con la sua famiglia allo stadio e viversi serenamente, un evento che deve essere sportivo. Quindi chi vince, il più bravo, gli si dà la mano, complimenti, se perdi, oh, ci sta, fa parte del calcio, ma in maniera sana, non in maniera violenta e quindi anche, per esempio, con cori violenti, razzisti e tutto quanto. Cioè la violenza intesa a 360 gradi. E l'unica cosa è questa, che ovviamente lo stadio, visto come il Colosseo, dove lottano anche i gladiatori con i leoni, bisogna trovare anche un contenitore perché tutta questa gente che normalmente fa violenza o cerca violenza negli stadi, poi diventano persone che sono fuori dagli stadi e quindi possono creare violenze in altri ambiti. Bisogna far rispettare le regole e le leggi perché le leggi e le regole ci sono. Il problema è che non vengono rispettate così come dovrebbero. Questa è la mia personale idea e opinione. Fammi sapere, come sempre, in basso nei commenti ciò che anche tu pensi con un bel pollicione in su. Iscrizione, se ancora non l'è fatta, con campanella inattiva. Mi raccomando per rimanere sempre aggiornato e aggiornato sull'entrata di ogni nuovo video. Ti ringrazio, come sempre, del tuo ascolto e noi ci sentiamo a un prossimo programma. Un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici. E sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao!